È notte, sono a Seoul all'hotel Four Seasons. Cosa si fa quando è piena notte? No, si ordina un hamburgerazzo e la cosa bella di questo hotel è che l'hamburger e tutto quanto si può ordinare direttamente da questo tablet. È veramente spettacolare, c'è tutto, 10.000 servizi, 10.000 cose, adesso vi faccio vedere. E senza dover chiamare giù, che poi gli devi spiegare le cose, scrivi tutto qua, in room dining, vado giù, ta-ta-ta-ta-ta-ta, trovo quello della notte, dalle 12 alle 6 di notte, vado qua, grilled, hang you, coso, un hamburger con le patattine, poi temperatura della carne la prendo a medium rare, guardate qua, tack, done. Buongiorno. Buongiorno. Grazie, grazie. Grazie. Sì, è bello. Sì, è bello. Sì, è bello. Grazie. Grazie. Ed è arrivato l'hamburgerazzo bellissimo, ma qui siamo superati, andrà bellissimo, è una cosa stupenda. Hanno messo praticamente il crisantemus tea, cioè l'acqua con il crisantemo. Che bello, bellissimo, stupenda. Sembrano le patatine di quel famoso franchise americano, che secondo me le compro qua sotto là, eh. Beh, guarda, sono uguali. Numero uno di questo viaggio. No. Agilicato. Non è vero, veramente? Agilicato. È più buono? Sì, non del pollo, eh, come hamburger. No, come hamburger, meglio di quel pollo là, impossibile. Stiamo parlando del pollo del Ritz Carton della Lounge, che era una roba. Guardate che paninazzo. Ora, che ora è? Quasi le una praticamente. Allora è l'una? Sì, sì, è arrivato le 12.40. Cioè, ci ha chiuso le 12.45. Un po' salato. Come un po' salato? Perfetto. Allora c'è un po' salato, perché io voglio metterci ancora un po' di sale. Andiamo a mangiare. Com'è? Buono? Ma è buono tipo da uno a dieci, diecimiglia. Diecimila lire. Ti piace? Abbiamo chiesto il medium rare, ma questo è il medium. Ah, ma secondo me il nostro medium è il medium rare. Poi non so, ti serve qualcosa? Vuoi chiamare il consierge? Vuoi prenotarti la spa? Vuoi chiedere che ti rifacciano la stanza? Oppure, ad esempio, qua vedete il request items. Schiacci qua. Tipo dici, ah, buongiorno. C'è senza dover telefonare. Spazzolini non ce ne hanno abbastanza. Ne prendiamo altri due. Li aggiungete e gratuitamente ve li portano in stanza. Ho ordinato due di colluttorio, due gel doccia e quattro bottiglie di acqua. Andiamo next. Arriverà tra pochi minuti. E tra pochi minuti arriveranno direttamente in camera. Vedete, ho fatto l'ordine. Gratuitamente ti portano queste cose qua. Quattro bottiglie di acqua del Four Season. Il gel per la doccia. Il colluttorio. Due di colluttorio. Insomma, carino. Poi ordino anche altre cose magari domani mattina. Hamburgerazzo di notte. Four Seasons Hotel di Seul al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!